Grazie a tutti Oggetti di design per la cucina ma soprattutto oggetti utili, oggetti di classe che fanno la differenza Oggi nello specifico ci occupiamo della colazione e infatti abbiamo allestito il nostro bancone pronti per una colazione doc Che naturalmente prevede l'utilizzo di schiumotto Schiumotto ecco il primo prodotto di Brandani che è arrivato qui e che veramente oggi ci stupirà Guardatelo qui, prima di tutto cosa ti viene da dire Alessio? Che bello Innanzitutto mi chiedo a cosa serve schiumotto e la grafica ci dà una mano ovviamente a scaldare e a montare il nostro latte Qui lo vedete in grafica al prezzo di 49 euro Uno strumento dicevo di design molto particolare, molto bello che adesso analizzeremo nei dettagli Ma soprattutto uno strumento molto utile nelle vostre mattine magari di fretta dove volete comunque gustarvi una buona colazione ricca E soprattutto anche in tutti quei momenti con gli amici in cui si può utilizzare un pezzo di design per realizzare un caffè coi fiocchi Adesso ve lo raccontiamo Ecco soprattutto perché con un solo elettrodomestico potrete preparare il latte per i vostri bambini con un po' di schiumetta E poi farvi un cappuccino o un caffè macchiato, quello che volete E qui il nostro schiumotto, adesso ve lo facciamo vedere E si compone di una base Alessio Io ve la faccio vedere Guardate, tra l'altro Brandani ha pensato proprio a tutto Perché siccome è uno strumento di quelli che stanno in cucina Quindi sempre alla portata un po' di tutti Già dal piccolo dettaglio si può vedere che i bambini qua non possono infilare le dita E così evitiamo di prendere la scossa E questa è la prima parte del nostro schiumotto Poi i piedini della nostra base sono naturalmente in gomma e sono antiscivolo E quindi è molto saldo sul piano della nostra cucina E poi c'è il centro Il corpo principale Guardate, ora io mi occupo del coperchio così lo mostro Eccolo qua Innanzitutto, attenzione ai dettagli per far vedere Perché naturalmente quando noi andiamo a preparare la nostra schiuma Che adesso ve la realizziamo pronti via in un attimo Giustamente il prodotto non deve uscire dal nostro corpo E quindi abbiamo questa parte in gomma che ci permette naturalmente di tenere tutto ben compresso E poi la nostra frusta Che poi in realtà sono due A seconda del risultato che vogliamo ottenere Due piccole fruste che servono appunto per due diversi risultati Eccole qui Le facciamo vedere entrambe Questa Alessio con intorno questa molla serve per montare e fare proprio il cappuccino La classica schiuma del cappuccino Invece questa noi andremo a inserirla all'interno del corpo Quando il risultato che vogliamo ottenere è di una schiuma molto leggera Oppure che so semplicemente di voler sciogliere un po' di cacao all'interno del nostro latte Perché sono molteplici gli usi che si possono fare di schiumotto Perché schiumotto ha due funzioni fondamentalmente La prima è quella di montare il nostro latte per andare a realizzare proprio una bella schiuma La seconda invece è quella di scaldare il latte e a sua volta realizzare un po' di schiuma A seconda della funzione che voi utilizzerete Però Mario direi che è il caso di mettere le mani in pasta e cominciare a mostrare come si usa schiumotto Allora io direi subito di realizzare una bella schiuma Dobbiamo inserire la frusta all'interno del corpo È semplicissimo C'è il suo giusto punto di collocazione Eccolo qua L'abbiamo inserita E poi andiamo a posizionare lo schiumotto sulla base E adesso mostriamo anche due pulsanti Perché è semplicissimo Ci sono solamente due pulsanti Questo più in alto serve per montare e scaldare E questo sotto serve solamente per scaldare E quindi in pratica noi abbiamo questo duplice utilizzo Mettiamo ovviamente il latte Che tra l'altro guardate al suo interno Ci sono anche tutte le differenti Qui nella parte interna Ecco posso sfruttare la telecamera aerea per farlo vedere un po' meglio Qui all'interno ci sono tre tacche Che indicano i differenti livelli Allora Mari adesso noi che cosa vogliamo andare a fare? Una bella schiuma? Certo Perfetto Allora ci teniamo su una tacca interna Che ci dà la giusta proporzione del latte da inserire Che è la tacca intermedia Semplicissimo Praticamente abbiamo già fatto buona parte del lavoro In questo caso a casa cosa avrei già dovuto fare? Prendere un pentolino e al massimo potevo scaldare il latte Invece vedrete adesso che cosa ottengo senza neanche sporcare una pentola Chiudo bene E fra l'altro voi potrete vedere anche quello che facciamo Perché è trasparente il coperchio Azioniamo E voilà Quindi semplicemente con un tocco di dita Il nostro schiumotto sta iniziando a preparare tutta la nostra schiuma Che poi noi potremo utilizzare come meglio vorremmo In una buona colazione Vediamo come viene montato il latte Eccolo qua E nel frattempo scalda Ovviamente io da fuori non mi scotto Perché assolutamente non scalda il corpo Però all'interno il latte si sta scaldando e montando Intanto Alessio posso chiederti di mettere un po' di caffè nelle tazze così Poi siamo pronti per il nostro cappuccino Godiamo di questa colazione Perché in effetti per noi italiani poi il caffè, il latte la mattina Insomma tutto ciò che riguarda la colazione è un momento sacro E giustamente abbiamo imparato anche negli anni ad andare sempre al bar Io vorrei un caffè macchiato, io vorrei un caffè con la schiuma Però a casa è impossibile farselo se non si hanno gli strumenti giusti Questo veramente è un piccolo, un piccolo strumento da cucina Perché in realtà anche le sue dimensioni sono abbastanza ridotte Lo potete mettere in cucina dove vi pare Lo potete tenere sempre lì pronto all'utilizzo con la sua presa di corrente Perché naturalmente ovviamente è collegato direttamente alla corrente E in un attimo avete la possibilità di fare un'ottima schiuma Proprio da andare ad aggiungere magari al vostro caffè, al vostro cappuccino la mattina Per portare a casa vostra la vera esperienza del bar Perché poi è questo insomma In due rapidi tocchi con le dita Vedete quanto è stato semplice Abbiamo riempito semplicemente il nostro schiumotto di latte Alla misura giusta perché ci sono tutte le indicazioni corrette che ci danno modo giustamente di procedere al suo utilizzo corretto E in un attimo, in pochi minuti, voilà, che esce la nostra schiuma Alessio, guarda un po', il pulsante in alto lampeggia vuol dire che la nostra schiuma è pronta Allora io a questo punto andrei a togliere il coperchio e a scoprire Allora io intanto verso un po' di caffè così almeno andiamo a realizzarci questo Questa è la nostra schiuma Guardate una schiuma come al bar a casa nostra con un semplice gesto Ho messo il latte dentro schiumotto e il resto l'ha fatto tutto lui Fantastico Poi che la mattina è quel momento in cui uno non ha tempo di perdere tempo Quindi è sufficiente mettere un po' Ah tu assaggi Brava, così che ti voglio Deliziosa È sufficiente mettere un po' di latte, magari nel momento in cui vi state per andare a lavare i denti La mattina uno prepara, si mette il suo latte all'interno di schiumotto e lo fa partire Il caffè è già venuto su, a questo punto non resta che andarlo a versare direttamente nelle nostre tazze Vedi Alessio che c'è qui una Ah la scanalatura La scanalatura che permette di versare il nostro latte Come al bar, proprio lo stesso procedimento del bar La cosa bella è che uno si chiede sempre ma come si fa? Ecco E così che si fa Un cappuccino fantastico, lo vuoi il tocco? Accidenti Di classe Io vorrei farvi vedere Guardate com'è venuto bello schiumoso, com'è venuto bello caldo, avvolgente Ti dà proprio il piacere, la misura in cui è bello fare la propria colazione Utilizzando Wow, poi io sono un cultore del latte, mi piace tantissimo E giustamente ne stai facendo due perché mi stavo chiedendo ma il mio dov'è? Eccolo qua Perché ne avevo fatto poco, adesso ne faccio subito un altro Però Alessio ti metto il tocco di classe Guarda un po' Il cacao Fantastico Cioè questo è veramente un cappuccino realizzato ad hoc In un attimo nel nostro studio Pronti partenza via Intanto io prenderei un attimo l'attenzione delle telecamere Perché voglio mostrarvi esattamente questo pezzo di design Allora innanzitutto parliamo del suo design esterno Perché la cosa è davvero molto importante Guardate innanzitutto le scanalature che ci permettono un'impugnatura sicura Poi l'attenzione ai dettagli D'altronde di uno stile italiano Pensate che questa azienda è sul mercato dagli anni 70 E nel corso del tempo ha sviluppato tutti questi nuovi apparecchi tecnologici Che danno proprio una mano a snellire il nostro lavoro La nostra colazione, la nostra cucina la mattina Stavo dicendo, importanti anche i piedini Che sono quei piccoli dettagli che magari non si considerano Ma che sono fondamentali anche per avere un accessorio in perfetta sicurezza Già inizio show abbiamo parlato naturalmente anche dell'attenzione Che l'azienda ha anche nei confronti dei bambini Che sono poi coloro che popolano la casa Popolano a tutti gli effetti la nostra cucina E guardate un piccolo dettaglio come questo qui Che sto indicando con il mio anulare Ci fa capire che anche se un bambino tenta di infilarci la dita dentro Non prende la scossa E sono sicuro che le mamme attente a casa Apprezzeranno anche questo dettaglio davvero molto importante Il tutto al prezzo di 49 euro Naturalmente prezzo che è affidato soltanto a noi di Good Shopping Quindi per conoscere maggiori dettagli anche su Schiumotto È sufficiente andare sul nostro sito www.goodshopping.tv Oppure chiamare l'840 84 80 80 E parlare con le nostre shop assistant Per conoscere tutto il mondo di Schiumotto Ma di tutta l'azienda Perché in realtà sul nostro sito troverete tanti altri prodotti grifati brandati Che naturalmente vi consigliamo di andare a scoprire direttamente nel nostro sito internet Nel frattempo è pronto anche il mio cappuccino Alessio Mi metto un po' di cacao e io non resisto più a questo punto È pronta per la colazione Vedete insomma piccoli Jess com'è? E vedi il crunch È già un ottimo segno del fatto che la colazione Guardate che bello Questa è una vera schiuma È giusto portare l'attenzione sull'immagine Perché questa è proprio un'immagine da cappuccino del bar Qui abbiamo portato il nostro latte la mattina Classico quello che beviamo un po' tutti Ad un livello superiore Perché per potersi permettere una schiuma di questo tipo Potersi permettere un cappuccino Come quello che Maria Rosa si è preparata La mattina bisogna andare per forza al bar Perché a casa nostra non siamo in grado E qualche cosa manca Perché poi uno si abitua a quel gusto Quel sentore, quella spuma Ed eccola qui In due semplici clic In due semplici gesti Ve lo potete portare direttamente a casa Alessio adesso che ho mangiato Posso dire due cose importanti? Allora la prima è che colazione appunto come dicevi tu A casa vostra come al bar In un semplice gesto E pensate al risparmio Perché lo sai poi io penso sempre ai nostri telespettatori E al fatto che loro possano godersi veramente I privilegi di entrare nel mondo di good shopping E trovare dei prodotti che siano belli, pratici E che siano anche furbi E così con un po' di latte a casa vostra Fate il cappuccino per tutta la famiglia come al bar L'altra cosa importante da dire È che non si fa solo il cappuccino Noi siamo veramente viziati Ma possiamo anche semplicemente scaldare il latte Con un po' di schiuma Un po' di cacao per i nostri bambini E poi un'altra cosa Sempre per i nostri telespettatori È che questi oggetti Non sono solamente pratici Ma sono soprattutto belli Io da quando conosco Brandani Ho risolto davvero un problema Che è quello Di che cosa regalare? Quando io devo fare un pensiero Ecco mi viene subito in mente Un oggetto Brandani Perché Dall'oggetto stesso E poi alla confezione È tutto pensato Per essere bello Guardate appunto questo schiumotto È bello Con queste scanalature Che ricordano un po' Una latta Vero? Sembra un po' una latta Poi molto pratico E poi nella sua bella confezione In cui arriva a casa Anche le confezioni Sono simpatiche Giovani Moderne Sono veramente Degli oggetti Preziosi Delle piccole Opere d'arte Che arrivano a casa nostra Arricchiscono il piano Della nostra cucina Un'altra cosa Che mi piace ricordare E che questi sono elettrodomestici Da esposizione Io non lo ritirerei Dentro l'antina Ma lo lascerei proprio Sul piano di lavoro Anzi ti dirò di più Che secondo me Sarebbe anche Un bellissimo regalo E allora scoprite Brandani Andate sul nostro sito Goodshopping.tv E scoprite tutte le funzionalità Di questo strumento Per la cucina Che rende la nostra colazione Ma anche il nostro caffè Il nostro dopopasto Sicuramente più gradevole È tempo di salutarci Mi raccomando Ci vediamo alla prossima Con Goodshopping Arrivederci Ciao 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 Grazie a tutti.